Tra meno di dieci giorni inizia la seconda edizione torinese dell'ATP Finals. Si sfidano i migliori otto tennisti al mondo. A Palazzo Madama si sta concludendo la presentazione dell'evento. Una manciata di giorni all'ATP Finals che si svolgeranno a Torino dal 13 al 20 novembre. Intanto è stato presentato il programma degli eventi in città sperando di fare il pieno dei turisti nella prima edizione senza restrizioni. Massimo Ranari. Palazzo Madama che diventa Palazzo Tennis con eventi culturali ed enogastronomici. Fanvillage in piazza d'armi, mostre dedicate alla storia del tennis e palline che piovono sulla città. Torino presenta il suo programma di iniziative nel corso delle ATP Finals. Per i biglietti ancora pochi giorni è quasi tutto esaurito. Purtroppo una edizione senza giocatori italiani ed è per questo che ci stupiscono i dati soprattutto quelli degli ultimi giorni, delle ultime ore. C'è un trend che l'anno scorso non registravamo al ridosso dell'evento. Questo vuol dire che la manifestazione è più forte di qualunque giocatore. Finalmente edizione a pieno ritmo e a piena capienza. 12.000 posti disponibili per ogni partita. Il caos dello scorso anno si spera un lontano ricordo. L'anno scorso eravamo alle prese con i tamponi a chi entrava, chi usciva, la bolla dell'arena. Mille, mille difficoltà. Oggi queste difficoltà non ci sono più. Siamo convinti che questa formula che abbiamo introdotto darà ancora più spinta a tutto quello che è il coinvolgimento di tutti gli appassionati di tennis che arriveranno a Torino. Per la presenza turistica a Torino, dagli alberghi sembrano arrivare finora ottime indicazioni. Sono già pieni questa settimana perché abbiamo la settimana dell'arte contemporanea con Artissima. Abbiamo prenotazioni intorno al 90% della capacità per i nostri alberghi. Chi ha il biglietto potrà anche avere agevolazioni in tutti i musei e anche la sera ci saranno tutta una serie di locali che offriranno degli sconti o delle iniziative dedicate.